In MSN ho messo la mia foto e ho iniziato a spiegare le persone che mi sono chiusi Aspetta, la fammi la foto bene, me la faccio lì Aspetta, devo guardarla un po' No, questa è... come mi fa il video? Eh, non è stabile Ecco, la fiamma si è stabilizzata, però vuole dare molto basso Uccidimi ti prego, uccidimi Simba